Quattro giorni, quasi cinque, di ricerche senza sosta, poi un elicottero della Polizia di Stato ha avvistato il corpo del medico palermitano. Dieci chilometri lontano dal luogo del ritrovamento del suo SUV, incontrata Raviotta. Giuseppe Eliotta, 40 anni, è stato localizzato senza vita all'interno di un vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice Sinistro, località frattina, nelle campagne di Roccamena, proprio al confine col territorio di Monreale. Superato l'obelisco di Ficuzza, ha percorso un tratto della statale difficile da percorrere a causa del nubifraggio che era in corso e si è poi immesso, probabilmente per errore, sulla strada provinciale. L'auto di Eliotta è stata trovata un po' più a valle della provinciale, dopo il ponticello Drago. L'acqua ha travolto l'auto, l'uomo confuso aveva anche chiamato la moglie per farsi geolocalizzare, poi è scomparso. Il suo cadavere è stato trovato 10 chilometri lontano, questi sono stati percorsi, verosimilmente una parte a piedi, forse nel tentativo di dirigersi verso il primo luogo abitato. E guardando questa fotografia satellitare non è inverosimile anche l'ipotesi che il corpo possa essere stato trascinato dalla corrente di un vero e proprio fiume d'acqua, alimentato dalle violenti piogge di sabato scorso, un fiume in direzione del lago Garcia. Corpo che è stato recuperato dal soccorso alpino, vigili del fuoco e dai forestali, la moglie, Floriana Di Marco, che è sempre stata al campo delle ricerche, dovrà riconoscerlo. Ho bisogno di vedere mio marito, ho già visto le scarpe e i vestiti, lo voglio vedere. Sono un medico e so come può essere ridotto, ma lo voglio vedere, ha detto fra le lacrime. Dopo il ritrovamento del giubbotto, un pantalone, una cintura, ieri pomeriggio anche una scarpa e un paio di slip. Giorno dopo giorno, traccia dopo traccia, palmo a palmo, fino alla scoperta, alla fine di ogni speranza. Era un pediatra, adesso lo ricorderanno tutti, in una terra dove si muore velocemente anche per la pioggia. E non solo di mafia, e se è vero che la morte dura poco per chi muore, e ancora meno per chi vede morire gli altri, speriamo veramente che questo non sia quel caso.